Artem Dovbic Nuovo Giocatore Della Roma Sono gasato Sono gasato Due motivi Il primo motivo per cui sono gasato È l'acquisto Perché se tu credi che questo acquisto O sei raziale E quindi fai una categoria A parte e guardi un altro sport Oppure stai così che Come un matto C'hai il fegato spappolato Abbiamo preso Il capo cannoniere Della Liga Che ha finito davanti a Bellingham, Lewandowski Sorlot Morata Griezmann Chi più ne ha più ne metta E io sono gasato E lo ridico Altre volte Perché io questo colpo Ve l'ho detto Ve l'ho detto Prima di tutti In esclusiva Sei giorni fa Ve l'ho detto Con lo shorts Ve l'ho detto Che era indirittura L'ora di arrivo E si sarebbe chiuso La prossima settimana Cioè questa Ve l'ho confermata Durante i video Di tutta la settimana Ve l'ho spalmato Un po' di notizie Di Artem Dovbic E oggi Con la live Che ho fatto Mercoledì Cioè oggi Alle 18 Ve l'ho detto Prima di tutti I migliori giornalisti Di Marzio Romano Angelo Mangiante Alfredo Pedullà Che io Vi ho detto Appunto Che Dovbic Era un nuovo giocatore Della Roma Andatevi a recuperare Quella live Minuto 18 E qualcosa Poi ve lo scrivo Qui sotto Nei commenti E Vi ho detto Che Dovbic Sarebbe arrivata La conferma Nelle prossime ore Dai maggiori giornalisti Che voi seguite E Sarebbe Domani Sarebbe partito Per Per Roma E la firma Sarebbe attesa Sarebbe stata attesa A breve Quindi io ve l'avevo Già detto Tutto in live Andatevi a recuperare La live Dopo il video Minuto 18 Qualcosa Ma ve lo scrivo Qui sotto Nei commenti Io non so Se vi rendete Bene conto In primis Che cosa ho fatto io Non è che ho tirato a caso Perché fermi tutti Io Ve l'ho detto Già nello shorts Io Ho una fonte Sicura Affidabile E l'ho dimostrato Questo colpo Vicina A Daniele De Rossi Che mi ha detto Sette giorni fa Difatti Poi ci ho fatto Lo shorts Mi pare o il giorno stesso O il giorno dopo Appunto Della notizia Seconda cosa Per cui sono stra felice Perché questa È la corazza Per lo scudo E lo scudetto Campioni d'agosto Campioni d'agosto Mi c'è poi che a mamma Non mi fa né caldo Né freddo Francamente Anzi Sono campione De luglio Quest'anno Sta a capire Sono campione Del 31 luglio Quindi porta rispetto Ma tanto Esaltarsi o no Non cambia niente Perché tanto va a finire Che sia la mia Che la tua squadra Finisce con zero titoli A fine anno Quindi non so Almeno che non ti fighi Squadroni Ma che neanche Inter e Juve Milan basti Non so quanto puoi parlare Se hai da dire Queste cose Io ho preso Dovbi Che è il capocannoniere Della Liga Che è il giocatore Migliore Che c'è Sul mercato Perché se ora mi dite Un attaccante Che non costi Ovviamente Costi Stellari Sotto 50-60 milioni Migliore di Dovbi Che io sto qui Tutta la notte E ora so Le 10 Aspettiamo fino a mezzogiorno Aspettiamo fino a domani Tu non mi fai Voi non mi fate un nome Capocannoniere della Liga 24 gol Col Girona Rapportati in Champions Per la prima volta Nella loro storia Io non so se voi state bene a capire Ma questo è un colpo Che È un colpo scudetto Cominciamo un attimo a dire Posso incominciarla a dire Con la parolina Permettetemi Posso incominciarla a dire Perché io non l'ho mai detta Da quando ho Youtube Permettetemi un po' Questa soddisfazione Posso dire che la Roma Può partire come outsider Per lo scudetto Se comunque La Roma fa la Roma Cioè la squadra Che dimostra sulla carta Di essere una squadrona Che la Roma È dietro Solo a Inter Niente E nessun altro Perché mi dovete dire Di essere dietro la Juve Se non è vero Che è un cantero aperto la Juve Perché mi dovete dire Che siamo dietro al Napoli Se il Napoli è arrivato decimo Perché mi dovete dire Di essere dietro al Milan Se l'anno scorso L'abbiamo sbattuti fuori in Europa Veramente ragazzi Palleggiandogli in faccia Perché mi dovete dire questo Perché mi dovete dire Che la Roma Un romanista Non può sognare Soprattutto con un Inter Che l'anno prossimo Giocherà Serie A Coppa Italia Champions Supercoppa Italiana Mondiale per club Farà 59 partite Giocherà Giocherà 8 miliardi di minuti Perché non posso sognare Io C'è Una regola Non credo proprio Questa squadra Che ha la Roma È una squadra forte Che se si trova Se ingrana Può essere uno squadrone È una delle Rome Più forti Degli ultimi 10-15 anni Ma c'è poco da dire C'è poco da girarci intorno Io non so se voi Vi state rendendo conto Che noi abbiamo preso Uno che ha fatto 25 gol in Liga Abbiamo preso Mattia Sule Che Voi dite Sì vabbè Ha dimostrato solo Un anno a Frosinone Ok C'ha 21 anni Uno dei migliori prospetti Che c'è in Italia Uno dei migliori prospetti In Argentina Ha fatto 11 gol a Frosinone È tornato alla Juve Ed hanno valutato 30 milioni di euro Lui Sule Che era nei progetti Della Juve Solo che Tiago Motta Ha scelto di solidificarlo Per prendere Ade Iemi Perché questo è il progetto Della Juve Altrimenti Sule faceva Il titolare alla Juve Ragazzi Ma di che stiamo parlando Scusatemi Ma di che stiamo parlando Ma poi vedo una Roma Con progettualità La Roma ha preso Enzo Lefe Che ha 24 anni Ha speso 25 paperoni Ha preso Dovbi che ne ha 27 Ne ha spesi quasi 40 Ha preso Sule che ne ha 21 E Ne ha spesi 30 Riga Anche Dal Lo stesso Dal È un giorno di prospettiva La Roma C'ha una bella squadra Basta Se state a rosicare Riga Tappatevi la bocca E state E state fermi State muti Perché state rosicando Tutti Tutti Lo Juventino Perché vi abbiamo preso Sule E va anche se voi dite Eh vabbè Ma mo Lo state Lo state osannando Come se avesse preso Maradona Ok ma tu stai rosicando Intanto Non tutte Attenzione Non tutti Perché ci sono anche quelli Onesti Quelli oggettivi E magari stanno lì E ammettono il colpo Che ha fatto la Roma Ma alcuni Juventini Stanno lì Che fan finta C'hanno lo scudo Davanti la faccia Quando dietro Stanno rosicando Come Come dei castori C'hanno il dente da castoro Ma Se fanno vedere sicuri Tipo per dire Che a noi non ci frega niente De Sule Non è vero A voi A voi vi frega De Sule A voi Juventini Vi frega E come Come vi fregava Di Di Bala E compagna Bella Ok Poi c'è sta il Laziale Che va bene Non voglio neanche Nominarlo Perché non ve lo devo Di scrivere io Mo' ci sono messi Pure Alcuni Del Napoli Che stanno a fare Tutti questi video Sfotol Ho visto uno ieri Su Facebook Che prendeva In giro la Roma Ma Io credo che C'erano alcuni tifosi Che devono avere Il patentino Per Per quanto sono idioti Visto che Magari non si ricordano Che l'anno scorso Sono arrivati decimi Con questo Non voglio dire nulla Con i tifosi napoletani Perché a me Stanno simpatici Attenzione però Perché alcuni Tifosi del Napoli Della Juve Ce l'avete Un po' Ve la sentite Un po' Troppo calda Quindi occhio 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 raga Occhio Parliamo ovviamente Ripeto Perché non vuoi fare Di un terbo Un fascio Sarebbe una cosa Sbagliatissima Stiamo parlando Di alcuni Tifosi Però occhio Perché comunque Io vedo tanta Tanta gente Che sta Veramente Frustrata Per i colpi Che sta facendo La Roma A me questo Mi rende felice A me rende felice Essere odiato A me rende felice Essere Insultato Essere Essere Perché questo Essere temuto Perché quando a te Ti insultano Quando a te Incominciano a dirti Quelle cose È il rumore Dei nemici È il rumore Dei nemici Di José Mourinho Qua mi si è Oddio La penna Scusate È il rumore Dei nemici Di José Mourinho Come dice José Il rumore Dei nemici Quando i nemici Ti mettono La mosca Nell'orecchio No Perché se non Sei temuto Se Comunque Diciamo Sei nella norma Non metti paura A nessuno Nessuno parla di te Anzi Ti compatiscono E essere compatito È la cosa più brutta Che ci sia Per quanto mi riguarda Avete visto un milanista Che parla male Della Lazio Un ojuntino Che parla male Della Lazio Un intervista Che parla male Della Lazio Della Fiorentina No Della Atalanta No Perché Perché ci sono Categorie E categorie L'Atalanta Che ha un numero Determinato Di trofei Che non potrà raggiungerli Nella propria storia La Lazio Che ha una squadra Disastrata E la Fiorentina Che non può arrivare A certi livelli È sempre così Si parla della gente Forte Si parla di Roma Napoli Juve Inter Milan Sono queste qua Le cinque E non voglio fare il presuntuoso Ma io penso che la Roma Tra le prime quattro c'è Fate fuori il Milan Fate fuori Fate fuori il Milan Perché io credo La Roma sia superiore al Milan La butto lì La butto lì Però ho detto Questa cosa di Dovbic Sembrava che ero L'ultimo arrivato Invece Va a vedere Che qualcosina Sapevo Ma qualcosina Quindi secondo me La Roma superiore al Milan La Roma Si inizia bene Perché tutto sta a iniziare Se tu inizi bene Vinci a Cagliari Vinci a Empoli Vai a Torino Te la giochi Magari strappi in pareggio Sai 7 punti Stai lì Aggrappato Sei prima in classifica Insieme a quella A quell'altra Alla fine te la giochi Te la giochi fino all'ultimo Perché poi Roma è così In ambiente Che comunque non molli mai niente L'abbiamo visto Pure andando alle percuse E perdendo Dovbic è quel colpo Che ti permette Di alzare L'asticella Ti permette Di avere un attaccante Che ti può fare 16 17 18 19 20 E passa Goll Perché lo ha già fatto Ed è un attaccante Che fa spappolare Il fegato Tutta Italia Perché state Quasi tutti spappolati State State Quasi tutti spappolati Ragazzi State spappolati Col fegato Vi state mordendo Il fegato Io non sto fermo Ragazzi Io sto Sono gasato L'ho fatto Le 10 di sera Questo post Acquisto Voto qualità Prezzo 9 9 Voglio esagerare Voglio esagerare Voglio esagerare Perché non sono oggettivo Voglio sparare il 9 Voglio sparare il 9 Colpo fantastico Colpo dell'estate Colpo da 90 Hai speso 40 milioni Ovviamente È un investimento Non da poco Però i freddi Non lo hanno accettato Ghisolfi De Rossi Sanno quello Che stanno facendo Quindi io mi fido A me piace Il ragazzo Da sensazioni Strapositive Ha fatto 25 gol Capocannoniere Della liga Questo è un colpo Che ti permette Di Di avere la corazza Per lo scudo Lo scudo Lo scudo Sì Incominciamo un attimo A parlarne Perché è così Raga Secondo me Dovvi Che è un colpo Che ti permette Di alzare l'asticella Fino a quel livello Lì A livello Che te la puoi andare A giocare Magari non lo vinci Però comunque Entri nell'ottica Di essere una squadra Grande E noi Voi mi scrivete Tanto sempre Settimo Sesto Arrivi Prima roba Innanzitutto Chiediti che squadra Tifi te Perché se tifi Lazio Napoli Fiorentina Che sono squadre Permettetemi Più basse Di livello Della Roma Storicamente E nel presente No storicamente Nel presente Il Napoli Non è più bassa Della Roma E allora Fatti tu domande Ricorditi che comunque Sei inferiore A livello storico Di noi Primo Secondo la Roma Storicamente La Roma Non arriva Sesto o settimo Negli ultimi 3-4 anni È arrivata Sesto o settimo Altrimenti La Roma Ha collezionato Pure Purtroppo 10 10 volte Il secondo Posto Quindi Sono campione Perché arrivo Secondo Se non vinci Non vinci Il secondo È il primo Dei perdenti Che cosa vuol dire Scusate Mi arriva Sesto o settimo Storicamente La Roma Non arriva Sesto o settimo Se ti file Tre strisciate Vabbè Che vuol dire Che fa Apriamo qua Una parentesi Che non finisce Più Quindi neanche La apro Tutto questo Ovviamente Se siete Tiposi onesti E la mia community Per ora Ha persone oneste Spero di continuare Ad averla Perché ho veramente Una bella community Io non mi riferisco A voi Che ti fate Queste squadre Che ho elencato Perché voi siete persone Per ora Da quel che so Corrette Per come Vedete Del calcio voi Che a me piace Cioè Un calcio onesto Per come vedono Il calcio Persone Che probabilmente Popolano il 70% Del web Secondo me Dovete fare Queste valutazioni Qui E probabilmente Attapparvi la bocca Perché questo È un corpo Tano matta Che a voi Fa spappolare Il fegato A voi E alle vostre squadre Viva i free head king Perché mi devo scusare Con loro Mi devo scusare Con loro Perché stanno Spendendo Spenderanno Più di 100 milioni Di euro Per la campagna Inquisita della Roma La campagna Inquisita della serie A Più costosa Di tutte E ricordatevi Che è Leon Kickoff Andatevi a rivedere La live Vi ricordo Vi rimetto Il minuto 18 E passa Ve lo metto Esatto Nei commenti Andatevi a vedere Lo short Di una settimana Fa Non ne sbaglio Una Non posso Sbagliarne Perché quando Sai le cose Basta che parli E poi ti fidi Il resto Pien da sé Ed è venuto Ed è venuto Domani arriva Topic Domani arriva Ce lo gustiamo Io credo cadrà Anche il Colosseo Gli faranno Una di quelle Presentazioni Secondo me Non dico La di Bala Ma sicuramente Faranno qualcosa Di Se inventeranno qualcosa Secondo me Perché comunque Ora La presidenza Mira a far Arrivare i tifosi All'inizio del campione Dal top Come fosse una Preparazione estiva Nel senso che Se il tifoso romanista Arriva Con il massimo Dell'entusiasmo È un giocatore In più Perché è quella Spinta in più Che ti può permettere Di colmare Il gap tecnico Con il gap Appunto emotivo Che sarebbe La vera forza Sulla Della Roma Sarà la vera forza Della Roma Io credo Veramente faranno Qualcosa di figo La nove Candra Dovvic Perché la gente Ha appena spoilerato Il numero di maglia di Dovvic Perché prenderà Il nove di Abram Questo butta l'inglese Praticamente fuori da Trigoria Perché o lui Ti Si toglie il nove Ma dubito E ti fa la riserva Non credo Oppure se ne va Ma per una cifra adeguata Quindi anche questa È una bravissima notizia Capito 40 milioncini di euro Stiamo arrivando Stiamo arrivando Regà Mo chiudiamo Per il terzino destro Mo vi faccio sapere Mo vi faccio sapere Perché le cose le so Regà Poi vi faccio sapere Per il terzino destro Comunque Anche lì si prospetta Qualcosa di molto buono Questa Roma Può lottare O no per lo scudetto Non lo so Regà Scrivetelo qui sotto Nei commenti Quel che so È che Dovvic È un colpo da 90 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti